ben trovati amici ci troviamo sempre nel mio laboratorio per il consueto appuntamento per quanto concerne la descrizione di vari materiali per il surf casting della caverland quest'oggi voglio mostrarvi il fodero morbido a tre scomparti fodero morbido a tre scomparti intanto possiamo già apprezzarne i colori con le solite bande catarifrangenti altezza un metro e settanta quindi possono alloggiare tranquillamente le la serie simbios le gambe la serie simbios e ora vedremo vedremo di inserirle all'interno per mostrare la comodità la cosa principale che voglio mostrare di questo fodero sono sempre le cerniere le cerniere sono sempre state un una pecca di tutti i foderi queste sono veramente cerniere anti salsedine di facile apertura e chiusura si afferrano con un dito si aprono si chiude si riapre con un'estrema facilità apriamolo tutto abbiamo tre scomparti dove in ognuno possono andare dalle tre alle quattro canne oppure possiamo alloggiare picchetti possiamo alloggiare l'ombrello l'ombrello caverland e all'interno sempre il velcro a strappo per tenerle bloccate dicevo sono tre scomparti una volta chiuso ci sono le le maniglie le comode maniglie di facile trasporto oppure le classiche bretelle imbottite regolabili eccole qua passiamo al lato di sotto sotto abbiamo una parte molto molto imbottita il robustita proprio per resistere a tutti gli appoggi che faremo anche su su sabbia su terreno su pietristo su terreno sconnesso quindi sarà sarà molto pratico molto molto pratico qui c'è proprio un imbottitura sono almeno 5 mm all'interno di gomma piuma all'interno questo qui esternamente sul lato destro voglio mostrarlo abbiamo questi due strappi e questa tasca una tasca irrobustita nella parte nella parte sottostante qui possiamo andare a mettere a bloccare fasciando in questa in queste in questo velcro possiamo andare a mettere l'ombrello caverland possiamo mettere picchetti il tripode e lo bloccheremo per con queste fascette voglio fare meglio vedere l'ombrello caverland è fatto proprio apposta lo inserisco e vado a bloccare con le fascette molto robuste parliamo di fascette molto molto robuste eccole qui questo è un esempio di utilizzo di queste fascette laterali con la tasca sottostante all'interno proprio per mostrarvi la capienza vedete sempre gli strappi per mettere per bloccare le canne in in questo momento vado ad inserire tre simbios novecento tre canne una due e tre vado a richiudere non sono messe sacrificate stanno bene larvi all'interno guardate qua che bel fodero si può utilizzare tutte e due le beretelle dietro alla schiena oppure accoppiandole anche una a mo di tra colma va bene adesso invece passiamo un attimino che possiamo questo passiamo a mostrarvi l'altro fodero che io adoro sinceramente praticamente il fodero rigido in questo caso il fodero rigido mono tasca ad un solo scomparto quindi l'altezza è sempre 170 centimetri i colori praticamente gli stessi stanno mantenendo questa bellissima linea sempre come l'altro fodero come lo zaino come il portabobine sempre materiale di alta qualità antistrappo e le cerniere anche guardate qui ma quando mai queste cerniere hanno funzionato in questa maniera all'interno abbiamo gli strappi sempre per bloccare le canne qui in questo caso fino a quattro strappi possiamo alloggiare fino a quattro canne di quelle di più sottili se sono canne diciamo così robuste tre ci prendono posto tranquillamente ma ora le mettiamo un attimino eccole qui ho preso le tre sillios light le mettiamo all'interno guardate quanto spazio spallaccio per me per essere visto a tracolla molto molto comodo e picchetti i picchetti che andremo a mettere sempre alloggiati con le punte in questa tasca laterale ingrandiamola irrobustita con questa gomma nella parte sottostante gli strappi per poterli andare a bloccare un attimo solo facciamo faccio un esempio voglio mostrarvi ho accopiato due picchetti li metto all'interno ma una volta che li ho stretti qui e bloccati eccoli qua questi non si muovono più guardate come sono salvi paralleli al veramente questo qui per le pescatine più leggere comode pratiche dove possiamo vogliamo portare meno materiale eccetera eccetera questo è un è un fodero eccezionale è quello che io preferisco sinceramente bene così credo per i foderi abbiamo terminato arrivederci al prossimo appuntamento dove vedremo un attimino di fare video per quanto riguarda i mulinelli adonis oppure per lo zaino surf ora vediamo cosa bolle in pentola arrivederci a tutti